Nuove misure per la promozione e l'incentivazione dell'uso di veicoli ecosostenibili è quanto stipulato da un protocollo d'intesa sulla mobilità elettrica siglato questa mattina dal presidente della provincia di Barletta Andiatrani, Francesco Ventola, i sindaci dei comuni della provincia e di rappresentanti di Enel Distribuzione ed Amet Trani. L'accordo consentirà di lavorare ad un progetto congiunto per la riduzione delle emissioni di gas serra, dell'inquinamento atmosferico, la salvaguardia dell'ambiente e della salute attraverso lo sviluppo della mobilità elettrica. Siamo tra i primissimi territori che insieme, grazie alla collaborazione con Enel, proseguiamo in un cammino già iniziato che è quello dell'efficientamento energetico e soprattutto quello dello poter utilizzare l'energia elettrica prodotta anche per altri fini, in particolar modo per la mobilità che è una parte sostanziale del nostro piano di bacino del trasporto pubblico locale di prossima approvazione ed è anche una linea strategica all'interno del piano di coordinamento recentemente adottato. Un accordo dunque a favore della mobilità a zero emissioni che potrà in futuro svilupparsi localmente con progetti specifici legati alle esigenze dei singoli comuni, tra questi ad esempio l'integrazione di servizi trasporto collettivo a trazione elettrica, soluzioni dedicate allo spostamento in casa lavoro, l'inserimento di mezzi a propulsione elettrica nel parco automezzi comunali, l'istituzione di tutta una serie di sistemi incentivanti alla diffusione dei mezzi elettrici. Alcune delle nostre città in maniera sperimentale cominceranno a dotarsi di colonnine messe a disposizione dall'Enel e questo è un percorso che continuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, neanche l'assistenza di collaborazione con l'Enel per poter attingere ulteriori finanziamenti che molto spesso nella nostra regione ritornano alla comunità europea e noi dobbiamo fare in modo di non perdere nessun tipo di finanziamento.